Ulvia Bacchi, che è CEO di Linea Pelle, Paola Gabriella Volponi, CEO di FAP. Grazie Tommaso. Grazie Giulia. Buongiorno, prego prego accomodatevi pure dove... Buongiorno, ci siamo visti. Buongiorno, allora io mi approfitto, non so se devo stare là, però io mi sento più camodo qua, mi metto qui vicino a voi e faccio approfitto di questo palco per mostrarvi questo libro, che è il libro che abbiamo realizzato noi di MF Fashion con il supporto insomma di tutto un po' uno staff, è stato un lavoro complesso, interessante anche per noi perché noi trattiamo della filiera ma diciamo che seguiamo più la fase finale, invece è stata anche un'esperienza per noi per conoscere un po' di più questo mondo e spero che lo conosceremo sempre meglio. Quindi invito chi è qui a prenderne qualche copia, a dare un'occhiata perché è stato un bel lavoro di ricognizione che abbiamo fatto con i nostri collaboratori, con tutto un team e secondo me è un risultato interessante. Spero che voi l'abbiate visto, che vi siate riconosciuti anche in questo volume e invece ne approfitto per chiedervi e partirei appunto da Fulvia Bacchi che diciamo così ha un osservatorio privilegiato guarda insomma questo mondo dall'alto per capire un po' qual è lo stato diciamo della pelle italiana che è una delle eccellenze della nostra filiera e che tutti stanno cercando di accaparrarsi perché mi sembra che ormai una volta si compravano i marchi, adesso invece i grandi gruppi del lusso comprano direttamente le aziende della filiera e cercano di prodursi delle cose in casa. Ma posso dire che questo non è un momento molto felice per la pelle. Ho visto prima la tabella del professor Sciuccati, il più 1,9. Negli ultimi due anni la conceria italiana segna invece dei dati molto negativi. Nel 2018 avevamo un calo del 2-3%, nei primi mesi del 2019 si parla di un calo a due cifre. Questo perché? Un po' perché la pelle è stata molto demonizzata e un po' perché c'è effettivamente un calo dei consumi. Il settore più colpito è quello della calzatura, quello dell'automotive, mentre rimangono diciamo abbastanza stabili la pelletteria e l'abbigliamento che però rappresenta una nicchia. Perché il settore della pelle è così demonizzato? Oggi sembra colpevole di tantissime cose. E invece è un settore strategico importante. Ci tengo a dire che non vengono uccisi gli animali per produrre la pelle ma recuperiamo un sottoprodotto della macellazione. Può sembrare un dato scontato ma non lo è. Oggi che la crisi della pelle è così forte soprattutto negli altri paesi assistiamo a interi camion di pelli che vengono sepolti o bruciati. Questo è perché c'è un integralismo green oggi? Il fenomeno deriva, secondo voi, da quello che avete capito? Viene da questo oppure ci sono altri fattori? Per esempio l'uso delle sneaker, immagino. Un po' questo l'uso delle sneaker, ma anche il fatto che vengano lanciati sul mercato nuovi prodotti che si spingano per nuovi prodotti che ancora oggi... Cioè le cosiddette ecco-pelli che sono forse un po' meno ecco delle pelli tradizionali. Assolutamente, perché sono comunque sempre un prodotto derivato dal petrolio, una risorsa che non è rinnovabile e rappresentano ancora delle nicchie di mercato di cui non si conosce ancora l'impatto ambientale se prodotte su scala industriale. E le nostre aziende che sono di famiglia in genere? Credo che la maggior parte dei vostri associati siano alla seconda, alla terza, qualcuno alla prima, però insomma sono di varie generazioni. Come stanno reagendo? Come si stanno muovendo? Perché diciamo che qualcuno fa delle offerte che fanno gola evidentemente, no? Ma sicuramente negli ultimi tempi c'è stato molto interesse su alcune concerie. Quello che lei mi chiedeva prima, perché i gruppi comprano le concerie? Io credo che sia soprattutto un controllo dell'approvvigionamento. Oggi la qualità della materia prima, la sua tracciabilità è molto importante. In questo modo, accaparandosi queste concerie, i brand che non possono permettersi di essere indicati come inquinatori hanno un controllo maggiore sulla filiera. Allora, approfitto che abbiamo qui un esponente di una di queste famiglie che lavora nel mondo della pelle, più a tutto tondo. Paola Grebilella Volponi, voi diciamo come vi giostrate? Qualcuno vi avrà offerto sicuramente di cedere l'attività, voi che gli avete risposto? Sì, no, noi siamo nati come piccolo laboratorio di produzione di cinture in pelle. Nel lontano 1995 eravamo soltanto mio marito ed io in un locale con qualche macchina vecchia. Poi pian piano siamo cresciuti, nel 2008 abbiamo traslocato attrezzo sull'Adda in provincia di Milano. Purtroppo proprio in quell'anno siamo stati colpiti da una crisi molto molto forte che ci ha messo davanti a un bivio. Se continuare a tentare di salvare l'azienda oppure cambiare vita, mollare tutto. E come avete fatto? Perché la vedo qua quindi evidentemente... Noi abbiamo deciso di continuare perché amiamo il nostro lavoro, per proteggere il nostro lavoro e il posto di lavoro dei nostri dipendenti. Quindi abbiamo fissato bene i nostri obiettivi, che cosa volevamo fare, dove volevamo arrivare. Quindi da allora, che cosa volevamo fare? Il prodotto su cui puntare è stato la cintura classica da uomo. E volevamo appunto arrivare a servire i grandi gruppi del lusso. E oggi con chi lavorate, se potete citarne? Da allora è iniziato un percorso di miglioramento. Adesso lavoriamo con diversi grandi gruppi del lusso, in particolare con uno. Siamo partner, collaboratori con loro. E siamo in 32 e produciamo 3400 cinture al giorno, di alta qualità. Con quante persone che lavorano per voi? Sono 32 in tutto. E tutto viene fatto all'interno della vostra manifattura? O avete dei terzisti? Assolutamente. Abbiamo giusto un piccolo terzista che ci fa qualche lavoretto, però è tutto fatto da noi in casa. Assolutamente. Allora, io approfitto sempre a Fulvia Bacchi. Chiedo adesso, ovviamente oggi, appunto, allora lo ricordavo Asciucati poco fa, se si pensa appunto che una volta si lavorava nelle cantine, eccetera, non è più così per fortuna. C'è un grande invece impatto della tecnologia. Voi come aiutate anche i vostri associati in questo? Allora, oggi le concerie non sono certamente le concerie di Fez o del Bangladesh. Parlo delle concerie italiane. Oggi sono aziende con un alto grado di automazione e cito sempre come esempio una conceria in Veneto che è riuscita a installare una serra dove nascono anche le banane all'interno della conceria. Quindi questo per noi è un punto d'orgoglio. Noi li supportiamo come associazione con la ricerca. La ricerca è stando loro a fianco per tutto quello che riguarda la cosiddetta sostenibilità. Ricordo che noi da 18 anni come associazione pubblichiamo il rapporto di sostenibilità del settore conciario. Quindi questa è una dimostrazione che per noi tutti questi aspetti sono cominciati da tantissimi anni. E oggi non partiamo dall'anno zero. Noi oggi siamo in grado veramente di fornire ai nostri clienti i più elevati standard qualitativi. Però ecco, quello che ritorna nella nostra conversazione, mi sembra che questo tema sostenibilità sia un po' la variante che può fare la differenza nei prossimi anni per voi o ci sono altri temi legati per esempio alla tecnologia, legati per esempio a questa velocità di fornire degli stock alle aziende del lusso che diventa però anche una dipendenza da questi grandi gruppi. Infatti mi ritrovo nelle parole di chi mi ha preceduto. Oggi la richiesta continua di cappionature, di prove, fa sì che una conceria debba adottare una struttura quasi sartoriale con un elevato grado di customizzazione e questo comporta effettivamente dei grossi problemi a livello di gestione e anche dei costi che non sempre ci vengono riconosciuti. Qual è la taglia media delle aziende che sono associate? Allora diciamo che la taglia media è sui 30-40 dipendenti. Quindi voi siete perfettamente in linea. Poi ci sono dei grandi gruppi che sono localizzati soprattutto in Veneto, che il Veneto è il più importante distretto conciario italiano, dove si lavora prevalentemente per l'automotive e l'arredamento. Quindi queste due destinazioni richiedono una struttura diversa rispetto a una struttura più flessibile che può essere la conceria che lavora per il brand o comunque per la moda. Paola, Gabriele da Volponi. Allora ci raccontava che siete legati in particolare a un gruppo, non so se si può dire, ma insomma forse no, però evidentemente diciamo ecco qual è la richiesta che loro vi fanno? Vi chiedono tutti questi campioni, vi chiedono e anche il tema tracciabilità che credo sia l'altro tema che vi chiedono. Sì sì certo, noi acquistiamo tutte le pelli per il 90% in Italia, in Toscana, abbiamo un 10% in Francia e appunto viene fatto tutto internamente e la nostra produzione si avvale del Toyota Production System. Il Toyota Production System è un sistema produttivo inventato dalla Toyota parecchi anni fa per la costruzione di automobili, però in realtà è adattabile a qualsiasi tipo di produzione. Noi l'abbiamo prima studiato sui testi diversi anni, cominciato a metterlo in pratica con qualche qualcosina di piccolo e adesso stiamo, diciamo che fa rendere la produzione perché abbiamo il 40% di produttività in più con un solo 10% in più di personale e gli scarti sono scesi dalla metà. Quindi diciamo che il nostro joker è stato quello. Un grosso tema nel tessile per esempio, lo racconta Zegna che ormai ha tutta la filiera, è quello di limitare sempre di più gli scarti e fare up-siting, credo che sia un tema anche vostro. Sì esatto, il fine ultimo del Toyota System è quello di azzerare gli scarti, proprio arrivare a zero, eliminare i tempi morti e avere delle linee di produzione agili e spezzettate. Ma in questo i grandi gruppi del lusso vi aiutano o vi dicono arrangiati? No, abbiamo fatto tutto da soli, però effettivamente noi siamo in grado di offrire loro un prodotto di altissima qualità ad un prezzo concorrenziale. Fulvio Bacchi è questa la differenza della filiera italiana, cioè che comunque noi poi ci arrangiamo davvero e alla fine quando i grandi vengono una soluzione gliela troviamo, non so cosa succede negli altri, perché ci sono filiere anche in altri paesi, però la nostra serve la fascia alta del mercato, credo. Dunque, questo è il paradosso dell'industria concorrenziale italiana. Noi dobbiamo importare il 95% della materia prima e dobbiamo anche documentare da dove arrivano le nostre pelli, perché il tema della tracciabilità oggi, come hanno già detto prima gli altri relatori, è importantissimo. Purtroppo nel settore pelli è più difficile rispetto al settore dei tessuti, perché se la pelle arriva soprattutto da paesi come europei oppure anche dall'America è facile avere, diciamo, la tracciabilità. Se arriva da altri paesi, perché ci sono origini che non... Certo, gli alligatori in Europa non ce ne sono tanti. Anche se gli alligatori veramente rappresentano il 2% del nostro fatturato, quindi non... E quindi questo è un tema. Un altro tema, sì, siamo al fianco delle aziende e soprattutto direi che un elemento che ci caratterizza è quello della certificazione. Oggi più dell'80% delle nostre concerie sono certificate, certificate a parte il tema della sostenibilità, ma anche le certificazioni di prodotto, che quindi garantiscono che i prodotti hanno subito una serie di test chimici, fisici e soprattutto le prestazioni di questo prodotto. Faccio un'altra domanda. Uno dei temi che abbiamo affrontato in questo libro e che affronteremo oggi è quello della formazione, perché è un altro tema, è dell'occupazione. In genere, da quello che abbiamo capito noi facendo il libro, è che molti si formano le figure che gli servono in casa e quindi, diciamo, alcune aziende lo fanno già per conto loro, alcuni distretti lo fanno per conto loro. Com'è lo stato dell'arte? Si trovano figure professionali per questo settore? È un campo in cui ha senso studiare, lavorare? Allora, innanzitutto la pelle è un materiale molto particolare e quindi va conosciuto. Sul tema della formazione direi che abbiamo in Italia quattro istituti tecnici conciari e non sono così frequentati, perché come si diceva prima, purtroppo non è così appetibile lavorare in conceria, anche se in realtà poi una volta scoperto questo mondo, ne vengono attratti e non escono più, perché è un settore che ha a che fare veramente con la chimica, con la biologia, direi anche con l'arte, con la storia, quindi è un mondo affascinante. Come associazione diamo molta importanza alla formazione, soprattutto alla formazione stilistica. Le dico solo dei numeri, dall'inizio dell'anno abbiamo fatto corsi per i futuri creativi a oltre 2000 ragazzi e quindi è un impegno, ma ci sta dando anche grandi soddisfazioni. Ecco, Colgo, Paola Gabriele Volponi, voi trovate i giovani che rimpiazzano, magari sono tutti giovani da voi, però qualcuno sarà insomma in uscita forse, no? Sì, sì, i più anziani pian piano vanno in pensione, in realtà le nostre sono quasi tutte donne per il 90% e le formiamo noi, abbiamo una specie di scuola interna per la formazione. Ma le formate perché non trovavate fuori o perché preferite? In realtà, no, non si trovano. È un'altra delle cose in cui vi siete arrangiati. E comunque, devo dire la verità, preferiamo formarle con il nostro sistema che è tagliato su misura per il nostro tipo di produzione. Insomma, è una supply chain dove tutto è di alto artigianato. Un bestiere d'arte, come si dice. Sì, infatti mio marito si diverte spesso. Abbiamo un parco macchine tutto nuovo, perché per implementare il Toyota System ci vuole un parco macchino assolutamente nuovo e performante. Però è adattato, è cambiato per le nostre esigenze. Quindi anche il personale deve venire istruito proprio ad hoc su quel tipo di macchinari che il lavoro deve fare. L'operaio controlla simultaneamente quello che sta facendo. Quindi è per questo che abbiamo ridotto della metà i pezzi difettosi, però vogliamo ridurli ancora. Già avevamo pochi pezzi, adesso ne abbiamo ancora meno, però il nostro obiettivo è arrivare a zero scarti e zero tempi morti. Ci sono diversi accorgimenti in produzione, mio marito è un creativo in quel senso, che fanno sì che si può produrre un articolo di alta qualità senza quasi controllarlo alla fine e senza scarti. In un certo lasso di tempo che deve essere chiaramente molto veloce. E questo è proprio un passaggio degli ultimi anni in mano. Sì assolutamente, in realtà è un passaggio vecchio di 30 anni almeno, perché la Toyota lavora così, zero scarti, zero tempi morti. Però nella pelle, almeno che so io, penso che siamo i primi e funziona. Mi sembra interessantissimo. Allora io siamo in chiusura, voglio chiedere un'ultima considerazione, soprattutto a Fulvia Bacchi, perché sentivamo che il piatto un po' piange. Come si fa a ridere nei prossimi mesi e anni? Non glielo so dire. Però diciamo che cosa di attenzione chiedete, magari la chiedete al governo, oppure c'è un bisogno di un... In genere diciamo le nostre aziende fanno da sole. Esattamente, fanno da sole. No, c'è questa continua ricerca da parte delle nostre aziende per prodotti sempre più performanti. C'è il tentativo, attraverso quella che adesso lanceremo a breve, di una campagna per ridare alla pelle il suo valore, perché dobbiamo ribadire il fatto che la pelle... Per far capire che è circular economy la pelle. Che siamo esattamente uno storico esempio di economia circolare. Recuperiamo un sottoprodotto e l'80% dei nostri rifiuti viene utilizzato per la produzione di materie prime per altre filiere. Quindi siamo veramente un settore circolare a 360 gradi. E forse un altro aspetto mi viene da dire è quello di far capire che c'è tanto bisogno di lavoro oggi in Italia, forse è uno dei campi in cui lavoro... Esattamente. Sì, ecco, in tutti questi anni, nonostante queste flessioni del mercato, uno dei fattori per noi più positivi è stato quello che siamo riusciti a mantenere la nostra forza lavoro. E quindi oggi ci sono 1200 aziende in Italia con 18.000 addetti e sono localizzati come conosciuto nei quattro distretti principali che sono in Campania, Veneto, Toscana e Lombardia. E quindi diciamo che è un settore che resiste nonostante tutte le crisi. Allora io ringrazio Fulvia Bacchi e Paola Gabriella Volponi per averci raccontato... Per averci raccontato la realtà della pelle in Italia, che è una realtà in evoluzione... Scusi, ho dimenticato. Siccome prima si parlava di archivio, come associazione abbiamo aperto nel centro di Milano uno spazio dove abbiamo raccolto oltre 20.000 campioni di pelli prodotte negli ultimi 30 anni da tutte le aziende italiane. e questo è veramente una ricchezza, uno spazio unico al mondo di cui siamo molto orgogliosi. Allora, grazie ancora. Grazie. Grazie.